buona vita gente da mauro d'agna alias il vagabondo per il mondo che saluta tutta la redazione della voce di asti e e la relazione di orgoglio stigiano da un posto meraviglioso sto continuando a fare gira la telecamera per far vedere dove sono sono a 4680 metri su una strada nel pieno della cordillera blanca in perù ebbene si sto portando avanti il mio viaggio che è cominciato nel 2014 da asti un viaggio che mi ha portato in africa e poi sud america in sud america per parlare di un progetto che a noi astigiani sta molto a cuore che l'albergo etico nel 2014 ho deciso di lasciare il mio lavoro lasciare la casa lasciare tutto per partire per fare un giro del mondo portando portando il messaggio di albergo etico messaggio albergo etico che che ha portato sui frutti in argentina creando albergo etico argentina in cile creando albergo etico cile e poi la pandemia purtroppo ha frenato un po tutto sono ripartito da pochi mesi per chiudere questa bellissima esperienza di vita un viaggio che mi ha portato in per adesso in due continenti saranno tre ben presto anzi tre continenti contando l'europa visto che sono partito da lì e dovrei riuscire dopo il perua arrivare in colombia poi attraversare fare il centro america e continuare in nord america potete seguire il mio viaggio sulla pagina instagram di vagabondo per il mondo 2 oppure la pagina di facebook di vagabondo per il mondo sarò lieto di rispondere ai vostri messaggi e alle vostre curiosità un abbraccio a tutti ancora e come sempre dico buona vita ciao ciao